Buongiorno a tutti, siamo qui alla Open Design Conference 2016 al Polo del Cordenone del Linux User Group che organizza questo evento per il software libero per tutto il design. Abbiamo due ospiti di eccezione che appartengono sia a Libre Italia che alla Document Foundation che promuove lo sviluppo e l'utilizzo di LibreOffice. Italo Vignoli e Marina Lattini che da poco ha assunto addirittura il ruolo di presidente della Document Foundation quindi le facciamo i nostri complimenti come PNLU per questo nuovo incarico. Allora ragazzi diteci che cos'è la Document Foundation e perché dovremmo fidarci di più di una fondazione per lo sviluppo di un software che tutti usano nella produttività di ogni giorno e invece perché non è più affidabile un'azienda. Sicuramente una fondazione indipendente riesce a fornire agli utenti, che siano comuni utilizzatori indipendenti, che siano cittadini e pubblica amministrazioni, riesce a fornire un'autonomia, una libertà che un'azienda non è detto che sia in grado di fornire. Una fondazione strutturata come TDF si basa sul lavoro della comunità e sulla meritocrazia che gli utenti e i contributori che riescono, che hanno la volontà e l'energia di dedicare alla fondazione permettono così quindi di realizzare un prodotto che sia realmente stabile e che sia assolutamente paragonabile ai prodotti proprietari. LibreOffice non ha assolutamente qualcosa in meno rispetto a un prodotto proprietario. La fondazione ormai festeggia i suoi quattro anni di vita. Il 17 febbraio scorso è stato festeggiato il quarto anno di vita della fondazione e qui abbiamo anche il piacere di avere Italo, che è uno dei sedici fondatori della fondazione. È meritocrazia che promuova lo sviluppo del software, la modalità di promuovere. Meritocrazia è una parola che a me piace molto e spesso vado a guardare se c'è ancora sul dizionario italiano perché in Italia viene usata talmente poco che ho paura che sparisca. Viene applicata, viene applicata, magari la usano tanti. Italo, la fondazione tra cui mi hai detto sei anche tra i fondatori. La fondazione è stata creata intenzionalmente indipendente e ha dei meccanismi di protezione dell'indipendenza, c'è un meccanismo di sbarramento al 30% dei voti all'interno del board proprio perché si è voluto evitare il ripetersi di situazioni che erano caratteristiche del periodo di open office quando c'era Sanna che pur impostando le decisioni o le discussioni in senso democratico poi alla fine diceva ma ci mettiamo i soldi noi e quindi poi la decisione la prendiamo noi. e questo chiaramente è uno dei problemi che sono sorti quando la comunità è maturata perché chiaramente Sanna quando è partito il progetto ha avuto il grande merito di far partire un progetto open in un mondo abituato al software proprietario, quindi ha avuto un ruolo fondamentale. Poi chiaramente c'è stato il momento in cui la comunità è cresciuta che sono iniziate le frizioni, perché? Perché la comunità voleva un'indipendenza che Sanna non voleva concedere e quindi nel momento in cui i leader del progetto comunitario di open office si sono trovati a discutere con Sanna è diventata sempre più chiara l'esigenza di avere una fondazione indipendente. Poi l'effetto, il motivo scatenante è stata l'acquisizione di Sanna da parte di Oracle, ma è stato qualcosa che ha accelerato un processo che però è un processo già inizio. È stata l'occasione? Sì, le prime discussioni in realtà sono state a Lione alla conferenza del 2006, ci sono proprio delle presentazioni che in quell'epoca rispondono già alle obiezioni che la comunità stava facendo a Sanna. Quindi quelli che sostengono che è stata una reazione della comunità all'acquisizione di Sanna Par commerciale non conoscono la storia, era nato molto prima, poi certamente conoscendo Oracle e conoscendo il suo modello di business è stato chiaro immediatamente che non avevano nessun interesse a mantenere open office in vita e quindi poi la storia dimostra che sta a Fosi, chiaramente essendo poi un progetto o un ambito industriale di enormi dimensioni, ricordiamoci che Microsoft continua a fatturare più di 20 miliardi di dollari con il solo office, quindi ci sono settori industriali che valgono meno di office in termini generali, è ovvio che dietro ci sono degli interessi enormi e questi per esempio hanno creato o hanno spinto IBM a creare il progetto Apache Open Office perché non voleva che la comunità avesse in mano un prodotto di queste dimensioni strategiche, cioè il problema è che oggi c'è una comunità indipendente in grado di fare concorrenza a Microsoft, è un problema per tutta l'industria del software proprietario, non è un problema solo per Microsoft, è un problema per tutta l'industria del software proprietario perché stiamo dimostrando che si può fare. Bene, ma noi vogliamo farli chiudere o vogliamo fargli cambiare mentalità? Allora, no, chiudere assolutamente no perché lo spazio ci deve essere per tutti, dovrebbero cambiare mentalità, dovrebbero soprattutto imparare a convivere con la comunità che è una roba molto problematica per le aziende ma che dovrebbero rendersi conto che ormai non possono, non hanno alternative. Ok, già che abbiamo introdotto l'argomento del software appunto ricordiamo che c'è una storia interessante che si può anche un pochino vedere, c'è molto materiale online oppure lo chiediamo a chi l'ha vissuta, mandiamo una mail a Italo Vignoli, però appunto LibreOffice non è, non è più potremmo dire OpenOffice, non va confuso con Apache OpenOffice, quindi vi domando a chi vuole rispondere, ma che cos'è LibreOffice? Sicuramente è una validissima alternativa e non va assolutamente visto come un prodotto troppo giovane, un prodotto che ha soltanto 5 anni di vita. La comunità degli sviluppatori ha deciso di, degli sviluppatori, dei contributori ha deciso di far nascere una fondazione indipendente, ma comunque questi sviluppatori sono quelli che prima lavoravano all'interno del vecchio progetto OpenOffice, quindi in realtà ci portiamo dietro questa eredità. Poi il prodotto è stato completamente rinnovato, sono disponibili moltissime funzionalità che non sono presenti nel vecchio prodotto, quindi l'innovazione si vede. È chiaro che inizialmente, partendo da più di 10 anni di esperienza, si è dovuto lavorare di più a una cosmesi del codice, a una ripulitura del codice. E poi con le versioni successive alla 4 abbiamo effettivamente visto delle migliorie notevoli anche in termini di funzionalità disponibili, in termini di velocità del prodotto. Una delle solite obiezioni che ci venivano fatte era appunto che OpenOffice era un prodotto lento, ma LibreOffice non lo è assolutamente. Con il passaggio a LibreOffice 4 si è vista questa notevole miglioria in termini di migliorità. E la stessa cosa sta accadendo con LibreOffice 5, non so se avete avuto la possibilità di testarlo, e lì c'è un ulteriore cambio di marcia, sono state introdotte nuove funzionalità, pensiamo magari alla barra laterale, la barra laterale degli stili in Brider è sicuramente una marcia in più, adesso vi fornisce addirittura l'anteprima indiretta degli stili, e quindi questo è un altro vantaggio per l'utente. Il prodotto sta andando avanti, vengono implementate nuove funzioni, e quindi sì, è sicuramente qualcosa di valido e qualcosa che può essere utilizzato non soltanto da pochi addetti ai lavori, pochi appassionati, è un prodotto che viene utilizzato anche tranquillamente all'interno di moltissime pubbliche amministrazioni, anche pubbliche amministrazioni italiane. Partiamo da due cifre che sono 120 milioni di download negli ultimi 5 anni e 160 milioni di ping di aggiornamento, questo di fatto significa, incrociando le due cifre, chi aggiorna potrebbe aver fatto la richiesta un paio di volte, sicuramente c'è gente che ha scaricato più volte, ma c'è anche gente che ha scaricato una sola volta e ha installato. Sì, organizzazioni, amministratori di sistema, proxy... Il governo francese usa LibreOffice su circa mezzo milione di desktop, sicuramente non fa mezzo milione di download, probabilmente lo scaricano 3 o 4 volte, hanno poi un po' di strutture che fanno il lavoro di creazione perché poi hanno i loro repositori interni ovviamente. Quindi noi stimiamo un centinaio di milioni di utenti che sono più o meno allineati a quelli che erano il nostro obiettivo quando siamo partiti, era quello di arrivare a 200 milioni di utenti nel 2020. Se pensiamo che siamo partiti nel 2010, adesso siamo nel 2016, siamo più o meno in linea. Certamente è difficile fare stime perché, questa è una cosa che sanno in pochi, ma nel 2008 Open Office all'epoca aveva superato una discreta percentuale di quota di mercato e da quel momento in avanti tutte le analisi sulle quote di mercato delle suite per ufficio sono misteriosamente scomparse. E' chiaro che sono analisi di tipo commerciale, quindi un signore che fattura 20 miliardi di dollari, quindi ha la possibilità di acquistare tutte queste ricerche, le può anche acquistare per farle sparire. Quindi questi sono quelli che pensano male come me e pensano queste cose. Libra Italia sta facendo un grandissimo lavoro e abbiamo effettivamente ottenuto dei risultati inizialmente quasi impensabili. Abbiamo la comunità, siamo la comunità di software libero più grande d'Italia e effettivamente abbiamo anche molti nuovi soci che partecipano e che sono quindi non soltanto dei numeri ma dei membri attivi, realmente attivi all'interno dell'associazione. Siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi chiaramente non siamo interessati, anzi assolutamente non ci occupiamo di business, ma quello che facciamo e che portiamo avanti anche proprio come statuto dell'associazione è appunto la promozione del software libero, la promozione degli standard aperti e lavoriamo principalmente anche con le scuole. Ci sono delle scuole molto attive come ad esempio la scuola di Verona dove stiamo portando avanti dei corsi in questi giorni, dove è presente un nostro socio che è il preside della scuola e che è stato lui stesso il primo a dirci ho le strutture, voglio fare dei corsi di formazione per i miei studenti, per i miei docenti e anche per i genitori e chi vuole partecipare. Però appunto in un ministero, parlare anche del ministero francese, non c'è rischio e poi quando arriva l'ordine si usa tutti i libri office, poi invece qualcuno fa obiezioni di coscienza e troviamo sui pc la copia del software di Straforo. Allora, il trucco è proprio nel non farlo partire dall'alto, noi abbiamo pubblicato come Documet Foundation un protocollo di migrazione che dice esattamente che questo non si deve fare, cioè che si deve fare formazione, si deve fare cultura e poi si deve installare il libri office, l'installazione del libri office è forse l'ultimo passo del processo di migrazione, i passi precedenti sono passi che hanno l'obiettivo di ridurre la resistenza al cambiamento perché il problema è proprio la resistenza al cambiamento che deriva dall'imposizione dall'alto, in realtà la migrazione fallita del comune di Friburgo in Brisgovia e la migrazione fallita del comune di Pesaro non hanno rispettato esattamente questa prospettiva. Poi ovviamente ci sono dietro chiaramente anche altre motivazioni che in genere sono date dal fatto che ci siano cambiamenti di personaggi e ci sono persone che per loro scelta ritengono di dover preferire Microsoft rispetto ad altre soluzioni, quindi certamente ci sono poi scelte personali che sono del tutto lecite, il software libero è un'industria e un modello di business, non è detto che tutti lo debbano condividere, c'è gente che preferisce rimanere attaccata a un modello di business vecchio di 40 anni piuttosto che scegliere uno che ha da 10 anni, è libero. Per ora, voglio dire. Grazie a Mimbe e buon proseguimento qui all'Open Design Conference. Grazie, grazie a voi.